Oggi è il 15 novembre. 1914, Milano. Benito Mussolini fonda il popolo d'Italia. 1920, Ginevra. Prima conferenza della Società delle Nazioni. 1940, Seconda Guerra Mondiale. Coventry bombardata in Rass al Suolo. Commenta il fatto del giorno Luca Ubaldeschi, direttore del secolo XIX. Nasce la casa editrice Eidaudi, un caposaldo della nostra cultura. L'ambizione di uno scrittore è quella di parlare.